Eccoci qua, buonasera, iniziamo a rompere le scatole, stasera parleremo di vari argomenti, non solo di immigrazione, ma partiamo da questa copertina, guardate, prigionieri nella casa dei sogni, sono una bella copietta felice, è un bel palazzo nuovo in quel di Monza e sono immigrati che entrano, perché ormai è diventata casa loro, siamo anche collegati con loro, li vediamo, buonasera Teodoro Zeller, questo di dove ti trovi? Buonasera Roberto, buonasera ragazzi, ben ritrovati, di dove ti trovi? Io sono appunto, esatto, siamo in Diasiago, siamo a casa di Stefano e Tatiana, in questo caso c'è anche Cristina che è una vicina e loro sono gli sfortunati inquilini di una scala che ospita un numero non quantificato in realtà esattamente di immigrati, di profughi, proprio perché, come ci racconteranno poi nel corso della trasmissione, c'è un via vai che non finisce mai, allora Teodoro ti fermo, non sappiamo quanti sono, ma sono almeno 100, 104 immigrati e questi togliendo Teodoro che non ci vive, per sua fortuna, e questi tre italiani, uno, due e tre, tre italiani in questo palazzo e 104 immigrati, il problema non si risolve, va avanti, ne parliamo dopo la sigla. E allora, prigionieri nella casa dei sogni, sono usciti molti articoli, ci ho fatto trasmissione io su questa storia di Monza, vediamoli, vediamo qualche articolo, ma insomma se ne è parlato tantissimo, vedete quel palazzo che c'è lì, è nuovo, è nuovissimo, non so quanto ha, ha tre anni invenduti, molti appartamenti ci hanno buttato dentro i profughi, vedete profughi nelle case nuove, la furia dei vicini e allora con Teodoro siamo dentro quel palazzo, hanno fatto l'albero di Natale e tutto quanto, non guardate verso la vostra sinistra che c'è la televisione, guardate, ascoltate me, non guardate il monitor, presento gli ospiti che sono, Modugheie dell'associazione Sunugal, ben arrivato, buonasera, l'onorevole Paolo Grimoldi della Lega Nord che è anche segretario nazionale della Lega Lombarda, ben arrivato, e Alessio Alberti che è del Partito Democratico, buonasera, buonasera Alberti. Allora, a Monza se non sbaglio a ricordare, ma ricordo perfettamente, governate voi e non avete fatto niente. Non è corretto. Non è corretto, siccome sono scorretto intanto faccio parlare con Teodoro Zeller, questi cittadini. Ripeto, 1, 2, 3, tolto Teodoro, stanno in una scala di un palazzo nuovo dove ci hanno 104 profughi richiedenti asilo buttati là. Teo, vai. Esattamente, esattamente. Adesso, grazie all'operatore che ci darà una mano, voglio farti fare anche un piccolo giro assieme a Stefano, mentre ti racconta quali sono un po' i passaggi principali di come si è formato questo problema. La casa, come tu dicevi, è assolutamente nuova, è bellissima ed è la casa dei sogni, nel senso che una coppia giovane, come potete vedere Stefano e Tatiana, hanno in qualche modo cercato di trovare il loro spazio, però si sono poi ritrovati più tardi un problema. Stefano, raccontaci un po' quando è iniziato il problema, quando siete entrati, che cosa è successo? Allora, noi siamo entrati a gennaio 2014, questa era la casa dei nostri sogni dove abbiamo investito tutti i nostri risparmi e facendo un mutuo di 240 mila euro per 30 anni, quindi non mi sembra poco. A settembre noi ci siamo sposati, nel settembre 2015 e a ottobre, quando siamo ritornati dal viaggio di nozze, abbiamo iniziato a vedere che nella nostra scala iniziavano a fare dei lavori. All'inizio eravamo anche contenti perché pensavamo che erano lavori per finire le case e mettere altri vicini. Invece? Invece ci siamo ritrovati all'inizio, nel primo piano, una trentina di bengalesi. Noi non sapevamo nulla. Non vi hanno avvisato di questo? Nessuno ci ha avvisato e anzi addirittura noi li vedevamo andare via con un forgoncino alle 6 del mattino e tornavano verso le 7 di sera e pensavamo che erano affittuari normali, infatti anzi eravamo anche contenti perché comunque c'era dentro altra gente. A quel punto avete fatto qualcosa, avete avvisato qualcuno, avete provato a chiedere spiegazioni a qualcuno? No, all'inizio no perché comunque pensavamo che erano affittuari, quindi gente normale, tranquilla anche perché comunque loro all'inizio non facevano bordello, ma a dicembre ci ha avvisato l'amministratrice dopo che è riuscita ad avere qualche informazione di più dicendoci che erano dei profughi ed erano in questo programma di richiedenti asilo. E poi mi sembra di aver capito che il numero è aumentato considerevolmente a un certo punto. Ha aumentato considerevole e vorrei capire come fa quella persona del PD a dire che loro hanno fatto qualcosa e non hanno fatto nulla, visto che la Cristina, e poi lo può dire anche lei, a febbraio quando erano in 45 ha avuto un incontro con il sindaco. Esatto, adesso per questo chiediamo direttamente... Allora un attimo Teo, intanto stiamo facendo vedere perché poi io c'ero sceso, un attimo Cristina, c'ero sceso durante la trasmissione Quinta Colonna, stiamo facendo vedere qual è la condizione degli altri palazzi sotto dove, ripeto, Palazzo Nuovo, Condominio Nuovo, vedete ci sono le cimici sui lampadari, la gente è buttata lì, di tutti quei soldi che si prevedono per dare un'assistenza a questi non vedo niente, vedo sporcizia, vedo gente costretta a bivaccare in appartamenti nuovi, c'è essi che non funzionano e tutto il resto, mentre quest'altra è la casa, è la casa dei signori. Allora prima di sentire gli ospiti e prima di sentire anche Cristina, loro hanno fatto 2,40 di mutuo, quanto? 2,20? 2,40? Quanto è? Quanto ha fatto di mutuo per la casa? 2,40? 240 mila euro. Tu Cristina quanto l'hai pagato il tuo appartamento? Io 165. Quanto vale adesso, ammesso che qualcuno se lo compri? Vale dal 30 al 50% in meno, cosa ufficiale perché un mese fa è venuto in po' casa che mi ha oltretutto detto che è diventata invendibile. Quindi teniamo conto che ovviamente ci sono ancora 28 anni di mutuo da pagare. Certo. Allora, aspetta che sentiamo i nostri ospiti. Grimoldi, voi la state seguendo questa vicenda? Non è indecente quello che sta capitando? Beh, è assolutamente indecente, soprattutto perché quei ragazzi fanno un mutuo di 30 anni e lo Stato italiano ha messo nella legge di stabilità, cioè la legge economica, 4 miliardi per dare le case gratis a tutti i clandestini che arrivano al nostro paese. 4 miliardi, non 4 milioni, 4 miliardi. Con 4 miliardi io ricordo che a novembre sono arrivati, perché non sono arrivati a settembre, sono arrivati a novembre, 15 milioni di euro, non 4 miliardi, 15 milioni di euro perché i scuola bus per i disabili non erano stati finanziati dal governo, per 15 milioni di euro che non trovavano e che sono arrivati a novembre invece che l'apertura delle scuole a settembre. Però hanno trovato 4 miliardi per l'accoglienza ai clandestini. Io per Viasiago conosco... Cosa si può fare? Cosa potete fare? Perché io lo so che voi della Lega la state seguendo, sta vicenda di concreto. Io tramite la segreteria cittadina della Lega, che penso che siano anche stufi di vederli quelli della Lega che vanno lì ogni due per tre, abbiamo fatto anche un'interrogazione parlamentare per chiedere come il governo volesse intervenire, visto che la cosiddetta accoglienza diffusa che il governo e il Partito Democratico avevano raccontato di voler fare, cioè tradotto dal politichese, mettere gli immigrati un po' in ogni angolo e non concentrarli in uno stabile solo, in un quartiere solo. È stato l'ennesimo fallimento e la dimostrazione è quello che stiamo vedendo stasera da Viasiago a Monza, dove prendono e mettono 104, 105, 124, non si capisce neanche quanti sono, in un unico stabile facendo diventare la nostra gente straniera in casa propria. È stato un fallimento assoluto, ma di più quando abbiamo fatto questa interrogazione parlamentare il sottosegretario Manzione ci ha risposto che non abbiamo segnalazioni di problemi in Viasiago, per noi va tutto bene perché bene o male ci sono lì degli immigrati, non sappiamo neanche bene noi tramite la prefettura quanti siano, questa è stata la risposta del governo, ma non abbiamo segnalazioni di criminalità o problemi di sicurezza. Cioè traduzione, fino a che non ci scappa il morto o non succede un fatto di cronaca nera, per quanto concerne il governo è tutto a posto. Io francamente non mi sentirei molto tranquillo, interverrei prima che ci fossero problemi, anche perché guarda poi che questa è andata in diretta nazionale, guarda in che condizioni sono le persone. Anche perché concludo, non lo dico io, ma lo dicono i magistrati, che la presenza degli immigrati comunque combacia con un aumento dei crimini o comunque della insicurezza e basta vedere che abbiamo nelle patrie galere, quando il 50% dei detenuti nelle patrie galere, nonostante cinque svuotacarceri del governo Renzi, il 50% sono immigrati, insomma qualche piccolo problema statistico è lì a vedere. Smudughei perché gesticolava mentre parlava? Allora, uno mi fa ridere perché io continuo veramente a sentire della Lega, il PD, il PDL di chiunque, che arriva a dire la scolobus non abbiamo trovato i fondi, però per i migranti li abbiamo trovati, però ricordiamoci che fino a ieri c'era la Lega, c'era il PDL, c'era PD e c'erano tutti quanti. E infatti facevamo i respingimenti. No, no, allora mi chiedo cosa avete fatto fino a... Tu da quanti anni sai qua? No, no, 26 anni sono. Bravissimo, allora ti ricorderai che quando il ministro degli interni era Maroni venivano fatti i respingimenti, che vuol dire chi arrivava qua illegalmente veniva rimandato indietro. No, guardi, io non l'ho interrotto perché continuavo ad alzare la mano... Ti rinfresco la memoria. No, no, va benissimo, io conosco bene Maroni, conosco il vostro segretario Salvini... Primo in discoteca a sera con Maroni. Però quello che mi chiedo è questa roba qui, e due? Perché loro ti raccontano che all'inizio, quando non sapevano che erano profughi, non avevano problemi, però nel momento in cui hanno scoperto che erano profughi e diventa un problema. No, però allora te la spiego io, scusami, se casa tua, scusami mi fai cazzare, se casa tua valesse il 50% in meno, se casa tua valesse il 50% in meno, non ti girerebbero le cazzole. Ma certo che mi giravbero i Maroni. E allora cosa sono, razzisti? No, no, ma però che problemi hai? Che problemi hai? No, perché una casa deve essere... Che problemi hai? Perché la casa deve essere sottovalutata, sottosviluppata perché semplicemente perché ci sono... Ma quei signori che ci sono lì con dall'interno... Prego, prego, vai, 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 con il microfono. Non posso non capire. Vai, vai, dalle il microfono, dalle il microfono. Sì, sì, sì. Dalle il microfono, Teo, dalle il microfono. Cioè, forse bisogna parlare con Tecnocasa o chi li ha... E c'entra Tecnocasa. E no, e no, perché loro ci hanno detto che le hanno detto che la casa era così. Cosa gli interessa alle istituzioni? Tanti sacrifici per acquistare questa casa non li hanno fatti loro, quindi cosa gli interessa? Finché non succede qualcosa di grave per loro. Il problema non è loro. Il problema... Per me non è così. Non è la medicina di vita. E chi ti sta governando adesso? Non è vero che non è successo niente. E so che c'è un problema serio in cui... C'è un tentato suicidio da parte di un ragazzo con tanto di portare via in ambulanza con la camicia di forza. Abbiamo un ragazzo agli arresti domiciliari perché è stato pizzicato con delle prostitute e ha resistito all'arresto. Per cui è stato processato per direttissima e messo agli arresti domiciliari qui. Io vivo da sola. Caspita, non vuoi... Io ho paura. Ho paura. Mi sono dovuta comprare un posto alto con tanti sacrifici perché ho paura di andare giù nel box. È un anno che siamo conciati così, ragazzi. Cioè, basta. Cosa c'è da dire? E la cosa che sembra essere più assurda è il fatto che ci... Un attimo. Allora, quello che ho da dire è che io veramente... Cioè, io dico che il tamburo non dice le bugie ma che lo suona. Cioè, questi qua stanno veramente cercando di creare un'attenzione. Chi? No, lei per dirne uno. Perché io abito in Viale Padova, abito in Viale Monza, abito in Via Rossini, dove vivo con gente per bene, dove non hanno paura che io vivi con loro in questa casa. Perché lei si deve fare problemi? Perché c'è uno... Quanti italiani sono negli arresti domiciliari? Quante violenze succede nelle case degli italiani che non sono fatte dagli stranieri? Adesso avete paura dei colorati? Non ci arriva dal microfono a qualcuno di loro. Perché, no, il 90% delle violenze fatte dagli italiani non dagli strani. Ma cosa c'entra? E va detto. E perché ha paura? Adesso con l'audio abbiamo un po' di difficoltà in questo momento. No, stai dicendo... Roberto, scusa, ti chiedo, mi puoi ridire... Sì? Vi ha dato dei coglioni perché vi lamentate? Te la faccio breve. Non ha detto questo. Sì, va bene. No, non ha detto questo. Perché ci sono nelle case degli italiani che sono violenti, bianchi, colorati, ordinati con la camicia blu e verde e gialla che fanno casino. Fermo che ci devono. Io a febbraio 2016 sono andata a parlare con il vice sindaco. Proprio per questo motivo erano diventati 45 e già facevano un caos assurdo. Non riuscivamo a vivere. Sono andata al vice sindaco con le buone. Il vice sindaco, ricordo, del PD, ok? Il vice sindaco mi ha detto cercheremo di fare il possibile. Da 45 a luglio sono diventati 132. Ora, abbiate pazienza. Però vivete voi tutti i giorni qua. Noi non abbiamo più un sabato e una domenica. Perché? Suonano il campanello alle 7 del mattino. Suonano il citofono a qualsiasi ora. Noi praticamente non riusciamo più a vivere. Anche l'acqua durante la notte. L'acqua durante la notte. L'acqua durante la notte. Si lavano tutta la notte. Non si capisce. Sono a casa tutto il giorno. Grimoldi. Sì, perché sono... Ricordiamo che sono buttati lì tutto il giorno senza fare niente. Grimoldi ancora e poi vado dall'esponente del PD. Solo per rispondere che è verissimo, abbiamo scoperto l'acqua calda, che ci sono gli italiani che commettono crimini e che delinquono. Però questo non significa che dobbiamo importare il 50% della criminalità del nostro paese dall'estero facendo vedere qua i clandestini. Questo non è vero. No, no, non è vero. Non solo il 50%. Ma certo che il 50%. Allora, vogliamo... Vabbè, è arrivato il magistrato. Da che paese vieni? Ma no, ma io vengo dal Senegal. Ecco, il magistrato dal Senegal ci dà le statistiche. I magistrati italiani dicono che il 50% della criminalità e addirittura il 65% delle violenze sessuali sono a opera degli immigrati. Allora, capisci? Cioè, una persona normale che rispetta le leggi e che è in casa sua circondato da 120-150 clandestini di cui uno gli arresti domiciliari, l'altro gli ha avuto resistenza pubblico ufficiale. Cioè, ma è naturale avere paura. Ma vai su internet e cerchi le dichiarazioni dei magistrati. No, 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 perché voglio parlare con la gente a casa che ci stanno sentendo. Certo. A me piacerebbe che lui invitasse un magistrato con noi qua. Basta vedere le dichiarazioni di Nordio. Vai su internet. No, no, ma perché dipende. Dichiarazioni Nordio. No, non è proprio così. Allora, fermi. Alberti. Non legge giornale. Alberti del Partito Democratico. Voi governate anche in quella città. Il problema, io spero che tu l'abbia capito e non sottovalutato. Sì, non sono di Monza, ma ero al corrente di quello che... Ci mancherebbe. Sono di Desio, in Brianza. Devo dire che... Quanti ce ne sono a casa tua? Sono 20 i profughi ospitati a Desio. No, no, a casa tua, nel tuo palazzo. A casa mia nessuno. A casa tua nessuno. A casa tua nessuno. Allora, però vorrei puntualizzare e descrivere bene un attimino come è stata la cosa su Monza. Come è stata la cosa su Monza. Nel senso che a gestire... Allora, ne parliamo, ne parliamo. Sì, lo sappiamo. Perché è corretto descrivere anche la proposta che è stata fatta dall'attuale amministrazione per ricollocare parte di quei profughi e che non è stata votata in Consiglio Comunale. Allora, lo sappiamo che ai sindaci li sbattono là e i sindaci non possono fare niente. È la prefettura che mette i bambini per l'assegnazione degli aloni. Però ci sono da qualche parte, ci sono dei sindaci della Lega che effettivamente sono riusciti a non farne arrivare neanche uno. Saranno brutti, sporti e razzisti, ma... Forse perché proprio sono i comuni dove sono sindaci leghisti che non ospitano i profughi e che poi i comuni dove non sono sindaci leghisti devono ospitarne di più. Ah, ecco, colpa della Lega. Cosa ha detto Stefano, Stefano? Voi fate venire 500.000 clandestini e è colpa nostra. Anche qui stiamo mischiando clandestini con profughi e richiedenti a te. Stefano, cosa stava dicendo Stefano? Qua dentro non c'è neanche un clandestino, sono tutti clandestini e ci sono anche riportati. Qua ci sono solo quattro siriani e tutti gli altri sono senegalesi e in Senegal non c'è la guerra. Perfetto. Quindi finitela con questa storia. Scusate, il prefetto, noi abbiamo avuto dei colloqui col prefetto, il prefetto bellamente ha detto che aveva un problema e l'ha risolto. Punto. Non gliene frega assolutamente niente. Vi spiego un po' l'antefatto. Questa scala, sono tre scale, la nostra scala è composta da 16 appartamenti. Uno, io sono proprietaria, nell'altro dove siamo ci abitano Stefano e Tatiana, gli altri 14 sono destinati a centro di accoglienza. Attenzione, ed è una palazzina di tre anni, gli fa a dicembre i tre anni in classe A. Non è un centro d'accoglienza, non è un hub, qui è questa la situazione. Sì, Teo, alzati, Teodoro. Attenzione, perché noi non viviamo più, è un anno che siamo conciati così. Teodoro, alzati, se è possibile, ti segue anche Luca, alzati, apri la porta e fai vedere dove inizia il centro di accoglienza. Fallo adesso, così, in diretta, non c'è niente da nascondere. Loro vivono blindati dentro al loro appartamento e andate verso la porta. È un segnale di speranza anche che abbiano fatto l'albero. Ecco qua, stiamo uscendo in questo momento. Guarda, tutto moderno. E là inizia la scala e se vai sotto e vai sopra... Qui vediamo già che il 310 in questo caso è già un appartamento dove sono stati istipati questi richiedenti asilo. Come anche lo vediamo... Scusa, gliela... Scusa, Teo. Questo è il 307 che è un altro e la porta che vediamo qua invece è la porta della casa di Cristina. Scusami, fallo a passi. A quanti passi abita sta gente? Di gente che ha sputato il sudore e lo sputerà ancora per anni per comprarsi l'appartamento. Fammelo a passi che così magari capiscono. No, dalla porta partono i passi, Teo. Dalla porta, fammeli partire dalla porta. Dalla loro porta... Mancava il segnale in questo momento. No, fammi a passi quanto è, fammi a passi quanto è dalla loro porta alle porte di questo centro. Ah, ma passi sono... Guarda, te lo faccio subito, lasciando l'operatore lì, guarda, i passi sono esattamente questi. Sono uno, due, tre... No, ti metto un mezzo, un mezzo passo in più. Tre passi e mezzo. E vami a casa... Ah, perché là perdi la linea, ok. Tre passi e mezzo. Ragazzi, questa è la storia. Ripartiamo subito dopo la pubblicità. No, scusate se tratto casa vostra come se fosse la mia, ma d'altronde... Alfano, il governo Renzi, il governo che c'è, la tratta come fosse l'immondizia di tutti. Anch'io ve faccio quattro passi che almeno si capisce a casa. Torniamo dopo la pubblicità. Grazie, restate lì. E vabbè, ah, ricordo che dopo apro anche le vostre telefonate. Non è ancora che mi facciate vedere che c'è il remaggio nero per farvi vedere che non siete razzisti, eh? Poi questo se ne va, eh. Tranquilli che questo se ne va dopo il 6, eh. Tutti gli altri rimangono. Prego così. Allora, prego... Sì, io volevo appunto un attimino spiegare com'era la situazione a Monza in questo momento. Ma ce l'hanno spiegata i cittadini. Ma i cittadini probabilmente allora sapranno anche che, dato che comprendo, non solo io, ma anche l'amministrazione a Monza comprende il disagio che stanno... la situazione che stanno subendo, è stata portata in Consiglio Comunale a Monza una mozione nella quale era richiesta l'utilizzo dell'ex ospedale, l'ospedale vecchio di Monza, appunto per andare a ricollocare parte di questi... di queste persone all'interno di questa struttura. Bene, la mozione è stata votata all'interno del Consiglio Comunale di Monza, la Lega Nord si è opposta. Ma dal momento che le strutture sanitarie, come l'ospedale vecchio di Monza, sono in capo alla Regione, quindi è la Regione Lombardia che se ne occupa, la Regione ha detto di no che questa struttura non può essere messa a disposizione per queste persone dal momento che si deve fare l'alienazione del bene, si cercano compratori. Notare che anche l'ultima volta che si è andati all'asta ci sono stati zero compratori, quindi quella struttura, ripeto, l'ospedale vecchio di Desio, può essere utilizzata per ricollocare parte di queste persone e andare ad allentare la tensione nei confronti di questi cittadini, di queste famiglie. Puoi. Falla. Vorrei farti una domanda. Monza ha 120.000 abitanti e mi sembra abbastanza grande. Il Comune, cioè il tuo partito, non è stato capace, in grado di trovare un posto dove ospitare questi clandestini, profughi, chiamali come vuoi. Non è il Comune, è la Prefettura. Ed è riuscita a trovare solo un posto che non era suo, ma era della Regione? No, la Prefettura mette il bando. Si è presentato questo signore Galviati. Hai detto che il Consiglio Comunale chi lo fa? Il Sindaco o il Prefetto? Chi fa il Consiglio Comunale? Il Sindaco e l'Amministrazione hanno proposto che altre strutture vengano messe a disposizione, tra cui l'ospedale vecchio. Perché al Consiglio eravamo presenti e non c'è neanche riconosciuto. E l'assessore neanche ci è venuto a salutare. L'ospedale vecchio non è stato messo a disposizione, prima informati di parlare. Perché noi ci abitiamo qua, siamo 24 ore qua e non abbiamo la cosa che tu vieni e ci vieni a dire a noi quello che è stato fatto o non fatto. Vieni ad abitare qua e poi ne riparliamo, se sei capace. Voi siete solo questo siete. Abbiamo mandato mille mail al tuo caro amico sindaco e non ci ha mai risposto. Non ci ha mai risposto. Hanno fatto una manifestazione gli immigranti e gli hanno subito risposto. Questa è la differenza tra i cittadini italiani che pagano le tasse, vanno a lavoro e pagano il mutuo e la differenza di queste altre persone. Solo perché? Perché c'è il lucro. E' questo quello che vi interessa a voi. Il lucro. Sono solo i soldi. Però non ci sono gli immigrati dove abitate voi. Chissà come mai. Vergognatevi. Vi dovete vergognare. Allora, Grimoldi, l'esponente del Partito Democratico. E io dico una roba. È giusto il loro sfogo? E se io fossi al posto loro... E' comprensibile. E io andrei di più se fossi loro. Io sono d'accordissimo con questo sfogo e do una notizia a queste persone che il comune di Monza e la provincia di Monza, entrambi amministrati dal Partito Democratico perché le province le hanno volite nel senso che le governa tutto il PD e gli italiani non votano più il presidente della provincia, non ha trovato gli stabili per questi clandestini, ma ha trovato le aule gratis, mentre gli italiani devono pagarle, per fare i corsi di arabo a Monza, al Mose Bianchi. Aule pagate dalla provincia di Monza, governata dal PD, per fare corsi di arabo. Fate un po' voi. Poi il PD governa il comune, la provincia, lo Stato centrale, la colpa è della regione che non gli dà lo spedale. Io mi aspetto che almeno una parola in italiano la sappiano, ma visto che sono a bivaccare tutti il giorno a Monza, o qua a casa, o a giocare al calcetto, al parchetto, di cosa stiamo parlando? A voi interessa solo prendere i soldi e farli prendere alle vostre cooperative del PD? Chissà come mai non volete risolverlo, perché se no finisce tutta la macchinetta dei vostri giochetti, e quello gli interessa, solo i soldi e il business, non ci prendiamo in giro, non veniteci a raccontare la supercazzola come siete abitati a fare da oltre un anno. Oh, la supercazzola, io bisogna chiamare le cose con no. Allora, ascolta una... Aspetta, Mudu, vi alzate in piedi un attimo la copietta e Teodoro, per favore, perché siccome sono stato in quella casa, ci ho lasciato anche parte del cuore, perché mi sono messo nella... Vi alzate in piedi Teodoro e la copietta, Stefano e la sua dolce metà. Andate, scusami, andate vicino alla porta, sulla sinistra, se ricordo bene, perché casa vostra ormai... Io continuo ad entrare a casa vostra e finché non vi risolvano il problema. Andate dove c'è l'album di nozze, fate vedere, guarda, smontalo là. Dov'è il quadro con l'album di nozze? Là, guarda, fallo vedere. Smonta, smonta l'album di nozze, per favore. Su, su, quello sopra, questo è solo il collage di foto, smonta, smonta. Smonta l'album di nozze, smontalo. Tira giù. Tira giù l'album di nozze. Apri lì, dove c'è? C'è un marchigegno, me lo ricordo, eh. Eh, guarda, vedi. Zac, Zac, io sta roba ne la sapevo. Che memoria, che memoria. Eh, ma mi ha colpito, Teodoro, mi ha colpito. Allora, fateci vedere i momenti felici, che poi siete tornati dal viaggio di nozze in quadra, che poi fai vedere che si preparano le nozze, senza saltare così, perché hai saltato, eccolo lì. Ecco, brava. Fai vedere i momenti felici, perché poi loro sono tornati dall'album di nozze, sono tornati da, scusate, dal viaggio di nozze e se la sono trovata in quel posto. Avete capito? Perché la storia è semplice, Tatiana e Stefano. Com'è che vi chiamate nell'intimità? Perché non vi chiamate Tatiana e Stefano. Com'è che vi chiamate nell'intimità, ragazzi? Io non mi chiamo Stefano, mi chiamo Love. Love. E lei? Ormai per tutti è Love, non esiste più Stefano. E lei? Io lo chiamo Love. Ecco, cioè Love, Tatiana è Love, perfetto, benissimo. Vedete, se sono sposati. Esatto. Il bello albumino. Vai avanti che se no facciamo tutta, facciamo notte. Eccola la sposa. Eccola, tutta contenta. Torna dal viaggio di nozze e si trova sta gran rottura di coglioni, diciamolo. Rimettiamo a posto, Tatiana e Love, rimettiamo a posto l'album, ricomponiamo il quadro, e vissero felici e contenti. Magari, dopo la pubblicità, torniamo, guardate come diventa un quadro sta roba qua, mi ha sempre colpito. E guarda, gli rimette la cornice. Tutto a posto. E quello l'abbiamo sistemato, il resto che fa cagare. Torniamo dopo la pausa. Vabbè, abbiamo il Luca che va a casa di farfalle. Ah, Tatiana e Stefano, se fanno le farfalle. Bello, bello l'amore. Le immagini, regia, di quel che c'è fuori di casa loro, al piano di sotto, di fronte, a fianco. Ragazzi, se voi siete d'accordo, io torno finché non ve li tolgono. Cioè, tornerò non tutte le settimane, sennò vi rompo i coglioni anch'io. E poi oltre ai richiedenti asilo avete anche me. Ma siccome l'unico sistema per tenere viva sta cosa è parlarne, visto che poi c'è un tema molto sensibile, no? Perché ci si vota a Monza la prossima primavera e chissà cosa succede. Allora, questa cosa che sta succedendo non è buona A per voi, e siamo d'accordissimo, e lo abbiamo detto pur con vari distinguo, B, non è bene neanche per i profughi, perché quella gente che sta lì, che io stasera non andrò a disturbare con Teodoro, ma torneremo, ripeto, quindi, quella gente che sta lì, sta lì ammassata e non se li fila nessuno. Anche se è successa una cosa, mi raccontava Stefano, che dopo l'altra trasmissione che ho fatto c'è stato un certo via vai. Stefano, raccontami, che via vai c'è stato nel palazzo dopo la trasmissione? Mi sa che avevo fatto un danno. Allora, hanno iniziato a portare dentro mobili, soprattutto tutto un sabato, sono andati avanti dalle 8 del mattino fino alle 9 di sera, a portare avanti i mobili, avanti e indietro, lavatrici e tutt'altro, e tra parentesi, di solito quando si fa un trasloco, le persone civili non usano l'ascensore, ma portano su le cose per le scale, e invece hanno usato l'ascensore e ancora tutt'oggi è tutto rovinato, e ogni 2x3 non funziona, perché c'è un sovraccarico di energia, di uso, e si deve ricaricare ogni mezz'oretta. Quindi, alla fine della fiera, il tuo servizio è servito, tra virgolette, più a loro che a noi, perché hanno guardato più il loro disagio, ma il disagio dei cittadini italiani non frega niente a nessuno, anzi, per di più, il prefetto quando abbiamo fatto l'incontro è stato non gelido con noi, di più, e la sua risposta alle nostre lamentali è stata io avevo un problema e l'ho risolto, poi che il problema l'ho addossato su 12 famiglie non ce ne frega niente. E il fatto che ci sia un problema con le forze dell'ordine, il termometro è dato dal fatto che in qualche maniera le loro chiamate non escono auto della polizia. L'ultima chiamata che ho fatto è stata settimana scorsa, il mercoledì notte, verso le 2, hanno iniziato a litigare fra di loro, si è sentito un botto fortissimo, perché deve essere caduto qualcuno, ho chiamato il ragazzo della vigilanza italiana che c'è qua fuori, dopo un'ora non riusciva neanche lui a fermarli, alla fine abbiamo chiamato sia io che lui le forze dell'ordine e la risposta alla mia chiamata è stata ancora voi di via Asiago che state chiamando? E li faccio, se danno fastidio, alle 2 di notte se permetti vi chiamo e avrei bisogno di una mano. Ha chiamato anche il vigilante e gli è stato risposto ma sei sicuro che c'è un problema, dobbiamo intervenire? Alle 4 e mezza l'hanno richiamato chiedendogli se era tutto a posto e non si è visto nessuno. Questa è la sicurezza, questa è la sicurezza, non c'è sicurezza. Tra l'altro Cristina mi raccontava poi una cosa abbastanza toccante prima, nel senso che tu Roberto ci sei stato, tu lo stabile hai detto benissimo, è assolutamente nuovo e passando dal cortile si vedono una serie di giochi per bambini. La cosa assurda è il fatto che prima dell'arrivo di questi ospiti i giochi venivano utilizzati, poi cosa è successo? Poi il giardino lo occupavano loro giocando, per cui i bimbi non potevano più scendere o perlomeno come fai a far scendere i bimbi di 4 anni, 5 anni, 6 anni oltretutto in un giardino che è chiuso, per cui sarebbe l'ideale per questi bimbi ma c'erano giù questi ragazzi che occupando tutto il giardino oltretutto hanno scassato varie cose e insomma non è bello e i bimbi non possono andare giù, non possono soffrire della loro proprietà. Ecco ricordiamo che nella scala dove mi sono collegato io ci sono 3 italiani e 104 profughi però nelle altre scale ci stanno famiglie con i bambini, con le figlie adolescenti che hanno delle perplessità anche motivate perché si tratta di ragazzi Sì, in totale di italiani nelle tre scale siamo in 32 32 però sì, allora fermo un attimo, Teodoro vai nel bagno da solo che ti devo chiedere una cosa 11 bambini Teodoro vai nel bagno da solo assieme al cameraman che ti devo, chiuditi in bagno che ti devo chiedere una cosa dopo Allora, uno sento dare dei clandestini a gente ospite lì allora continuo a dire ma come possiamo permetterci di dare giudizio se non siamo né la polizia né la prefettura né i carabinieri dicendo che questi sono clandestini che uno mi dica che senegalesi che chiedono l'asilo è vero, in Senegal non c'è la guerra però possono esserci vari motivi familiari, tribali che li spinge Ho capito, ma i motivi tribali me li devo succhiare io Va benissimo, no vabbè, non li devi succhiare tu o li devi fare tu e quindi questo lo posso capire però bisogna dare cese a quello di Cesare ogni ofile fa il suo mestè quindi loro fanno gli abitanti o fanno i giudici o fanno quello che l'è e due, basta dire PD o chi governa che sono loro che prendono i soldi i soldi chi lo prende e chi lo gestisce che sono italiani alcuni sono cooperativi seri, alcuni sono realtà che si sono inventati all'ultimo momento perché c'è questa emergenza, l'urgenza che si è portato a questo Quando c'erano loro, loro avevano i CPT che erano una specie di galera che va detto, specie di galera Lì giravano, non non migliaia di euro, milioni di euro girate che ne vanno raccontati Posso sentire l'onorevole Grimodi? A parte che quando erano i CPT quantomeno non rompevano i coglioni in giro in termini di criminalità E quindi era meglio e poi venivano fatti gli spingimenti Era molto meglio, non erano in giro a delinquere E venivano respinti Quando eravate voi al governo non c'erano problemi Non spendavamo 4 miliardi, non facevamo venire il mezzo mondo Comunque i miliardi non sono loro Non può parlare Grimodi e dirmi una frase Governo Renzi Visto che gli state dando la colpa alla Lega di tutto Governo Renzi, mille giorni di governo, 460 mila arrivi Il signore dice, profughi, io dico clandestini Di questi nell'anno in corso, 180 mila Sapete quanti sono i siriani tu del PD? Non lo sai I siriani sono una quota minima Di quelli che arrivano con i gommoni tramite il Mediterraneo Sono una quota minima per il semplice fatto che passano dai Balcani ed entrano dal nord est Italia Perfetto, allora i siriani arrivati su 180 mila I siriani sono 953 Pari allo 0,6% Sono tutti clandestini E li fanno venire qui perché fanno business con le cooperative Perché scusate Se noi non troviamo 15 milioni di euro Per lo scuola bus, per i portatori di handicap Ma trovano 4 miliardi Cioè 4 mila milioni di euro per l'accoglienza È perché fanno business A sud di Milano No, 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 lo faccio voi A sud di Milano la cooperativa che gestisce gli immigrati Ha comprato l'albergo, lo stabile dell'albergo per 2 milioni di euro Dopo meno di un anno che gestiva il business dell'immigrazione 2 milioni di euro vuol dire che è un business che frutta un sacco di soldi Allora se noi vogliamo continuare So che le elezioni si trattarà un attimo No, non ci sono le elezioni C'è il fatto di tornare padroni a casa nostra E non poter continuare a fare accoglienza Perché qualcuno deve fare business Cioè le cooperative del PD E qualche privato che fa business Siamo qua a fare commizi Perché tra un po' loro vogliono Non è che a te manchino gli spazi L'hanno fatto fuori Renzi Quindi vogliono andare alle elezioni Quindi lui già ha iniziato, ha preparato le E tu non stai commiziando adesso No, no, no Ma volevo dire una cosa importante Perché inutile dire Ma non è che le robe che dici tu sono importanti E quelle delle altre cazzate No, no, ma io non ho fatto parte dei partiti Se li devi sfruttare No, tanto sono i dati del Ministero degli Interni No, però se vogliono attaccare il PD o qualche legge Sono i dati che ha dato al fano Allora, uno ai profughi Non dipende solo dai siriani Attenzione, perché poi l'Italia Ricordiamoci, anche sotto il vostro governo Con PDL e XX Avete fatto la promozione dei armi Avete venduto armi in tutto il mondo Quindi la guerra Io notoriamente sono un trafficante d'armi Ma che cazzo stai dicendo? Eh no, l'Italia vende le Eh no, a Brescia si producono le mini anti-uomo Eh, chiudiamo le aziende di Brescia subito No, no, perché lo fate anche voi Ma che significa l'altro discorso? Quindi non c'è solo la Siria E due Allora, abbiamo visto la primavera araba? Dove lo mettiamo questo? Nell'Africa nera, oggi In Burkina Faso In Mali In Niger Abbiamo l'Isis E allora, scusami, io sono partito Quindi E due, io sono partito dal palazzo Vogliamo fare come la signora Questa qui che seleziona solo Quali l'ingegneri architettini Ma si sa che la Lega Nord propone soluzioni facili per problemi che sono di natura globale State dando la colpa alla Lega di tutto Io prendo la Lega Nord Allora, cinque anni Ma scusate, scusate L'80% Il ministro degli interni Il ministro degli interni è il vostro governo Ci dice essere clandestini Fine delle trasmissioni La Spagna fa i respingimenti È un paese razzista No Non vuole che arrivino i clandestini sul suo territorio L'Austria ha messo l'esercito ai confini È un paese razzista No Non vuole i clandestini La Francia controlla la frontiera con Ventimiglia Perché è razzista No Perché non vuole i clandestini Perché solo noi prendiamo i clandestini Sono tutti razzisti Oppure noi abbiamo un governo degli incoglioniti È la seconda Stai su sta copertina, Massimo No, no, no Sulla copertina Vedi Io ho fatto mettere qua L'esterno del palazzo Stiamo parlando di questo palazzo nuovo E di gente che ci ha comprato casa E che poi si è trovata come vicini di casa Delle persone disagiate Pagate con fondi pubblici Là dentro A far casino Semplicemente Stiamo parlando del diritto alla tranquillità delle persone Teo guardati allo specchio Dillo tra di noi Guardati pure allo specchio Dov'è allo specchio Teo? Guardati Parlami allo specchio Guardati allo specchio Dimmi là Eccolo là Sei riflesso Ti vedi riflesso Dimmi Adesso Loro sono di là Anche se ci seguono Dimmi Che idea ti sei fatto tu Da persona Più o meno normale Quindi da persona Che ha dei suoi pensieri Non so neanche se sei di destra Di silvio Mi frega un cazzo Però che idea ti sei fatto Della sistemazione che hai trovato stasera Ditelo guardandoti allo specchio La situazione è molto particolare Diciamo per usare un eufemismo Nel senso che effettivamente i numeri parlano chiaro Io il primo pensiero è Ci sono tre scale Questa è l'unica struttura Dove uno può decidere di mettere Dei migranti Ma perlomeno suddividiamoli Nelle tre scale Non ammassiamoli tutti in una Cioè C'è secondo me una gestione Un po' Approssimativa Della questione Oltre ai numeri Sembra che non ci sia proprio Nessun In qualche modo Nessun Supporto Se tu abitassi là Che faresti Se tu abitassi là Che faresti Te incazzeresti Te incateneresti Che faresti Casa tua vale la metà E ti sei fatto il mutuo Per trent'anni Che fai Che fai Sei razzista Non sei razzista Eh no Assolutamente Io sarei arrabbiato Come lo sono Cristina Tatiana E Stefano Perché non Perfetto È impossibile Vivere in una situazione In cui Non ci sono Ti chiedo un altro sacrificio Supporti Portami un attimo a casa Di Cristina E raggiungili Alberti Io vorrei Delle cose concrete La Lega ha fatto L'interrogazione parlamentare È una cosa concreta Però ne servirebbe Altra E poi sentirò anche Da Grimoldi Che è anche Segretario della Lega Lombarda Quindi un partito Che conta molto Sentirò anche lui Degli impegni Un impegno concreto Che puoi prendere tu Un impegno concreto È naturalmente Dipende su scala Nazionale Questi sono problemi Io sto parlando Di questa gente Lo so Però non sono Non sono neanche problemi Che si risolvono così Con la bacchetta magica Come dice il nostro Esponente della Lega La questione La questione Scusa Lui ha detto Sul livello locale Si è fatto una proposta Che era quella Di ridistribuire Queste persone Anche all'interno Di altri edifici Di altre strutture Un attimo Prima di andare a casa Questa proposta Al momento Non può trovare attuazione Dal momento che C'è un blocco Da parte Della regione Della regione Lombardia Su scala nazionale Io dico Che il problema Dell'immigrazione La questione Dell'immigrazione È una questione Ben oltre Ben oltre I confini nazionali italiani Se ne deve occupare L'Europa Non stiamo dicendo Dovunque Fammi vedere La casa Dove stanno I profughi Che l'ha attaccata E l'ha attaccata Perché Lei è Esatto Dei ragazzi Che non hanno colte Questa qua è casa Di Cristina Questa qua è casa Di Cristina E questa È la stanza Di uno Cioè una delle stanze Dove sono messi Il posto Dove buttano 8-10 persone La stanza Poi Insomma L'avete visto Come sono conciate dentro Fammi vedere Il suo appartamento Dei sogni No perché Io sono stufo Che si parli Sui massimi Dei massimi sistemi Stiamo improvvisando Scusa Non ti avevo chiesto Di entrare a casa tua Te l'ho chiesto in diretta Ma Ecco Dai Raccontaci casa tua Dai Raccontaci È giusto per vedere Che anche questa casa qua È assolutamente nuova Bellissima E non ha nessun problema Se non le persone Che sono di fianco Che creano difficoltà Nel vivere Guarda Io non do la colpa A questi ragazzi O perlomeno Io ci parlo anche Ho provato a parlarci Ma A parte il problema Di comunicazione Parlano solo inglese Il problema reale È che non hanno Un'educazione Nel senso che Io quando mi affaccio E vedo uno Anzi Becco uno Che mi sputa giù Dal quarto piano Tu capisci che È casa mia E mi piange il cuore Cioè io me la son comprata Con tanti sacrifici Questa casa E mi piace L'adoro Perché O alle sette del mattino Di domenica mattina Uno di questi ragazzi Sbaglia campanello E mi suona Alla porta Alle sette del mattino Cioè no Capisci È l'educazione Che non c'è Io porto rispetto a loro Loro devono portare rispetto Per le cose che gli vengono date Punto Questa è l'unica colpa Che do io a loro Per il resto L'unica colpa L'hanno le istituzioni Le istituzioni E quelle persone Che hanno preso in carica Tutte queste Tutte queste Questo business Perché è un business Alla fine È tutto qua Allora Vi chiedo una cosa Quindi semplicemente È un anno che Vai 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 C'è un breve ritardo Dovuto al collegamento Perché tutto No È un anno che viviamo In questa condizione Mi hanno rovinato Tutto quest'anno Io praticamente Ho perso un anno di vita In questo senso Ed è brutto Perché veramente Io È poco che abito qui E me la sono giocata Ma non è bello E chi E quando io vado A chiedere al prefetto Trovami una soluzione E lei gira intorno Alla soluzione Perché non vuole trovarla Perché la risposta è Guarda Avevo un problema L'ho sistemato E comunque È tutto in deroga No Non va bene Non va bene Io tutti i giorni Mando un tweet ad Alfano Mandavo un tweet ad Alfano Per cercare di risolvere La situazione Gentilmente Esponendo il problema Non mi ha mai risposto So che è impegnato Per l'amore del cielo Ma caspita Teodoro Cioè l'ha creata loro La problematica Non l'ho creata io Teodoro Apri il balcone Che dà Sulla strada fuori Per far vedere Che fuori C'è la tangenziale La vita che continua Perché vi devo far vedere Assolutamente Tiriamo su La tapparella E ti facciamo vedere Subito tutto Sì sì Tira su Non c'è problema Guarda Che Con quanto mi dispiace Romper le balle così A casa della gente Ecco Manda fuori Luca Che sennò tu ti prendi La polmonite Invece Luca Sanno che lo fai per loro No Luca Luca È Abituato Hai visto Hai visto là fuori C'è Gira Gira Fai vedere Ecco C'è il mondo Che continua Una zona ben collegata E tutto quanto Allora Ah sei andato fuori anche tu Dai che vi prendete tutti Un malanno Dopo la pubblicità Torniamo Ritornate pure nel divano Dopo la pubblicità Torniamo E prima di cambiare argomento Vorrei una roba concreta Da tutti e due Lei è un filosofo E quindi le robe concrete Non gli vengono neanche Neanche morto Però I due politici sì Me la possono dire Una promessa concreta Torniamo tra poco Siamo alle fasi finali Di Monza Ma dove tornerò Anche perché dopo Siccome Uno degli ospiti Che ho qui Si è comportato molto male Che è Mudu Gay Io? Sì Sì perché Ti sei permesso Di fare una battuta In una trasmissione nazionale Dove c'ero anch'io Dicendo che gli italiani Erano la stessa roba E infatti ti ho anche fatto Una bella copertina Che adesso ti mostro Che è un bel Trova le differenze Trova E ne parleremo dopo Naturalmente È un bel Trova le differenze Tra i nostri Che partivano Con la valigia di cartone Per andare a lavorare E questi qui Che giocano Perché insomma Hai mancato di rispetto Qualcuno Che non è piaciuto Dopo ne parliamo Dopo ne parliamo Allora Alessio Del Partito Democratico Alessio Alberti Che mi dice Che puoi dire a sta gente Non mi interessa La tua visione Generale Sul tema dell'immigrazione Frega niente Io per Monza E per la situazione Di disagio Che naturalmente Disagio Ma che cazzo di parola È disagio Disagio nel senso La situazione Assolutamente Non buona Che stanno vivendo Queste persone Comprensibile Mi auguro Mi auguro appunto Che Maroni Che a costo Di rompere Le palle Al governo Tutte le settimane Intasandoli Di interrogazioni Parlamentari Andiamo avanti Fino a che non risolvono Il problema E ogni volta Che rispondono Se non rispondono Che hanno trovato La soluzione Invece che un'interrogazione Ne facciamo tre L'altra proposta Che non dipende da me Ma che può essere Una soluzione È che siccome Il 23% Di tutti i clandestini Arrivati nel nostro paese Sono stati messi In Lombardia Basterebbe convincere Il governatore Serracchiani Del PD Che non ne vuole mezzo O i governatori Della Toscana O dell'Emilia Del PD Che non ne vogliono mezzo Appigliarsene una parte Perché il 23% Su 20 regioni italiane Il 23% Li mandano in Lombardia Se siete così Generosi altruisti Invece che rompere le palle Alla regione Lombardia O i sindaci della Lega Che giustamente Mettono prima La nostra gente E dopo i clandestini Andate dalla signora Signorina Serracchiani A dire Senti bella Perché tu i clandestini Non li vuoi Forse perché in Friuli Hai le elezioni E hai paura Che se ti mandiamo I clandestini in Friuli Perdi le elezioni E non fai più la governatrice È perché è troppo comodo Andare in televisione E parlare Di solidarietà Di altruismo Di prenderli tutti E poi li mandano Tutti da noi Però la Serracchiani Del PD Che è anche vice segretario Del PD Non li prende E allora Intervieni Invece che romperle palle Alla regione Lombardia Telefonare Citofonare Serracchiani Allora Teodoro In conclusione Un intervento A ciascuno di loro Li vedo forse Un po' delusi Però non è che Torniamo Un intervento A ciascuno di loro Partendo alla tua destra Partendo alla tua destra La tua destra E Tatiana Tanto voleva dire Anche l'ultima cosa Dopo Tatiana Intanto parti dalla tua destra La tua destra Teodoro Sinistra Destra Eccolo lì Perfetto Ho capito che non sei di destra Né di sinistra Teodoro Però non distinguerle No sto scherzando Vai vai Guarda Roberto guarda Cosa ti posso dire Stiamo andando davvero Alla deriva Abbiamo fatto di tutto E faremo di tutto Fino adesso Siamo andati davvero Con le istituzioni Le istituzioni Hanno solo dato porta in faccia È una delusione grande Ma veramente grande Perché io non ho mai avuto bisogno Una volta Una volta che Ho bisogno di aiuto Per un problema Non creato da me Ma creato da loro E mi viene sbattuta La porta in faccia Sinceramente È una grande Grande delusione Oltretutto volevo Rispondere al signore Che avete lì Lui dice che quando c'erano I sindaci della Lega O comunque quando c'erano Il governo loro Loro erano in galera Beh ma scusami un attimo Ma io sono controllata A casa mia Io allora Cioè loro sono in galera E noi no Cioè io non sono più Libera di vivere Spiegatemi qual è la differenza Tra noi e loro allora Chiaro Cioè loro adesso possono vivere A discapito mio Passateo a Stefano Allora io sono abbastanza deluso Ma ormai ci ho fatto il callo Visto le risposte che ha dato Il signor Alessio Sono le stesse che ha dato Il sindaco Il prefetto L'assessore Sempre la faccia di dire Eh ma capiamo il disagio Capiamo il disagio Ma noi è un anno che abitiamo qua Ed è Non cambia la situazione Ma continua a peggiorare Quindi sinceramente Vorrei capire come fanno a dire Che è disagio Ma non hanno applicato Una soluzione E non trovano una soluzione Quindi se non trovate una soluzione Forse è meglio che cambiate lavoro Questo è il mio pensiero Ecco Che poi viene proprio Io invece volevo ribadire il concetto Che oltre Che al norma Rispetto delle regole Che questi ragazzi non hanno Ma anche il numero Cioè non si possono mettere Dieci persone in un appartamento Cioè è assurdo Solo per lucrare Su questi ragazzi Poi le cooperative Non li fanno fare i corsi Non rispettano il bando Anche per loro è difficile Cioè per tutti Cioè per noi che per loro È solo una questione Di lucrare Speculare Su questa Grazie Non vi sto tagliando Anzi vi ho dato più spazio Teodoro Esci un attimo ancora lì Nella Nella Dalla porta Per favore Scusami se ti chiedo Delle cose Ma servono A far capire A far capire A casa E si giri pure La telecamera Io intanto ringrazio Loro Ovviamente Vi ho già detto Che torno a parlare Di queste situazioni Ciao ragazzi In gamba Con whatsapp Scrivetemi Stefano mi scrive Sempre e mi dice Ringrazio anche Teodoro Ovviamente E Luca Che l'ha aiutato Alla telecamera Fammi Quanti sono appartamenti 10, 20 e 30 Cioè alle tue spalle 10 persone Cioè 10 10 profughi Ammassati Eh 10 No voglio far solamente Sto pianerottolo 10 profughi Vai avanti 20 profughi 20 Ah beh certo Sono pochi metri Cioè 20 Solo davanti alla porta Di casa Di queste tre persone 104 In tutto il palazzo 38 Gli italiani Che stanno anche Nelle altre scale Che saluto Sono andati in questa scala Perché ce li hanno tutti Qui loro Buona serata a voi Io intanto Perché devo proseguire Con altro Ringrazio Sia Paolo Grimoldi Onorevole della Lega Nord Segretario Della Lega Lombarda Ringrazio Anche Alessio Alberti Del Partito Democratico Che vedo che ha un po' Riflettuto Stasera Magari Mi ritorna Rigenerato Dopo la riflessione Ascolto sempre con attenzione E meno male Perché guardi che Problemi delle persone Perfetto Meno male Perché non tutti So così Allora poi vedremo Cosa seguirà Visto che lei Coordina anche Questi gruppi di giovani Del PD Che magari sono un po' Più svegli No? No Cerchiamo di costruire Un futuro migliore Per tutto Per ora non vi è riuscito Molto bene Però Siamo giovani Noi siamo ancora Le ultime fila Allora Mudu Mentre gli altri Possono uscire tranquillamente Ringrazio Grazie Paolo Arrivederci Grazie Grazie Alessio Mudu vieni qua un attimo Scusami eh Pensavo di andare con loro No no Adesso resti qua Perché poi c'è Da trovare le differenze Tra gli italiani Con la valigia di cartone E invece questi Con i telefonini Sono tutti e due drammi Ma C'è solo delle differenze Non è Tutto uguale Ne parliamo subito Dopo la pausa Fermo qua eh Non scappare